Il Napoli ci ha provato ed esce a testa alta dallo stadium, una gara giocata a viso aperto da Gattuso e dagli azzurri che soprattutto nel secondo tempo, quando in campo c'erano ben quattro attaccanti, hanno messo alle corde la Juventus. I bianconeri hanno puntato sulle individualità e quando a Ronaldo e Di Bala lasci la possibilità di poter inventare, la classe supera di gran lunga il carattere e la voglia di chi col coltello tra i denti tentava l'impresa. Ora c'è da battere la Sampdoria e tentare di inanellare un filotto di risultati positivi in attesa di un passo falso di Atalanta e Juventus, che tra due giornate si scontreranno in un big match che può segnare uno spartiacque per la stagione di entrambe, ma soprattutto del Napoli. I tifosi applaudono gli azzurri e chiedono un ultimo sforzo per queste ultime nove gare di campionato. Purtroppo sì, un sogno che svanisce, ci ritroviamo sempre a punto di partenza, speriamo che la società e il presidente capisca che è il momento di intervenire in maniera seria durante quest'estate per un calcio mercato che possa riportare il Napoli laddove speriamo da anni possa arrivare. Non è stato mai facile, perché purtroppo il Napoli quest'anno ha espresso poco gioco secondo me. Ieri abbiamo dato una dimostrazione che la squadra c'è e secondo me col calo del Milan noi riusciamo a riacciuffare questa Champions che è il nostro sogno. Purtroppo penso che il Napoli come al solito si sia svegliato un po' tardi, il primo tempo non abbiamo fatto niente, il secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma è dall'inizio del campionato, la Champions se la perdiamo speriamo di no, l'abbiamo persa nelle partite precedenti a questa, non ieri.